siamo live siamo live puntualissimi adesso arriverà anche Alessandro Cavasini ciao a tutti finalmente live mi siete mancati tanto torneremo a fare tante tante live perché c'è bisogno di fare live c'è bisogno di di finalmente live qualsiasi cosa ciao Walsh ciao a tutti ciao ciao Davide che condivide quello che credo anche io allora allora intanto vi invito subito così mi dite subito che cosa pensate insomma di quello che che è accaduto ok tanto aspettiamo Alessandro ci sono tantissime chiavi di lettura di quello che è successo ci sono vi do anche il telefono per intervenire via cellulare ok un attimo solo così vi do anche il telefono e così facciamo un attimino il punto eh dov'è il dottore dottore allora eccolo qua grande il studio ciao doc come stai un attimo adesso ti sento ok ciao grande dottore amareggiato aspetta 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 doc allora benvenuto a dottor Gigi un amico un fratello un grandissimo interista mentre aspettiamo Alessandro Cavasini ciao Pierangelo un fratello uno che andava allo stadio lui va ancora io beh io ci sarò con Napoli ma è uno che ha fatto gli anni che ho fatto io ciao Gers ciao Silvio cazzo grande Silvio ma lui è un grande dottore io lo prendo in giro proprio perché è un grande dottore allora anche Silvio che tanto poi ci sentiamo dopo siamo già in 120 stasera zero preamboli dottore come ti senti oggi visto che sei un dottore e che cos'ha il paziente è malato ha solamente fatto una caduta c'è qualcosa che magari gli puoi prescrivere una brutta caduta un fratture un fratture purtroppo perché sì sì una brutta caduta perché secondo me questa partita è stata persa più con la testa che con più mentalmente è stata persa perché Zaghi anche nelle sue dichiarazioni pubbliche per te che poi tu segui la comunicazione è stato un po' remissivo un po' timoroso a dire che lui diceva l'atletico è fortissimo in casa e beh noi siamo fortissimi in trasferta quindi ciao Antonio quindi lui caricare la squadra dare energia alla squadra poi tutte le sue paure le sue i suoi dubbi le sue difficoltà per sé e parlarne nello spogliatoio ma non caricare la squadra in tutta questa pressione mentale che è stata poi palesata anche nei giocatori importanti c'è un Pavard che è entrato così distratto eh con leggerezze difensive no aspetta 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 se no facciamo è bello fare i monologhi ma sai che il web ha tempi diversi allora allora innanzitutto benvenuto ad Alessandro ciao ragazzi ciao 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 ho fatto parlare solo il dottore perché gli ho chiesto come sta il malato inter se mai è malato se è una caduta se è una cosa d'aspirina il dottore mi ha detto una brutta caduta con fatture ah pensavo che l'avessi l'avessi chiamato visto il video mio di 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 stamattina seguite il tuo video e erano le cinque e mezza e sembra che avessi piaccato sembra che avessi ah no no io non aspetta 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 no io non l'ho seguito il tuo video questa volta perché stamattina la mia moglie invece è stata male proprio a livello di di influenza quella lì insomma quella quella del vomita insomma non è stata una giornata semplice e quindi oggi ho visto pochissimo fatto solo un video che cosa è successo Ale no niente che ieri stavo devastato e quindi non ho registrato l'ho fatto stamattina ma erano le cinque e mezza quindi quando poi l'ho messo saranno state le sette più o meno la gente ma per la partita perché sei raffreddato è un po' tutto soprattutto per la partita direi però ah ok ok stava una brutta botta una brutta botta aspetta proviamo a fare ordine io io ieri ho pensato bene di fare dello stretching fatto molto male e quindi poi il pomeriggio con le mosse al collo che sapevo di non andare a fare ma che ho fatto mi sono proprio fatto male non è il solito dolore al collo mi sono proprio fatto male sulla il legamento dottore quello che unisce il collo alla insomma il legamento dove poi sopra c'è il processi spinosi ok cioè ho fatto questo adesso non lo faccio ho tirato giù la testa ok e mi è partito non vado a metà schiena ma veramente un dolore cioè mi sono bloccato non mi era mai successo quindi ieri per non andare al punto soccorso fisioterapista difiammatori non riuscivo neanche a muoverla testa non riuscivo a guardarmi neanche ad allacciarmi i pantaloni quindi poi ho visto la partita seduto ho cercato di stare tranquillo poi c'era mio fratello invece poi è durata cento e trenta minuti e e alla fine poi ho mangiato primo tempo anche se leggero avevo la la pancia sembrava un pallone poi sono andato il suo cv e mi hanno fatto incazzare e poi certe cose non mi sono andate giù però notata infernale oggi poi se non è stata bene lei un disastro però ci sono rimasto male però quello che mi ha salvato è che andremo più a fondo è che me l'aspettavo ad alessandro lo avevo detto e anche lo avevo anche scritto mi aspettavo di uscire e il massimo che mi aspettavo era un uno a uno e quindi sono sempre stato scudetto oriented sono comunque gasato non voglio fare nessun processo mi piace analizzare quello che è successo con un grandissimo il migliore per me che alessandro e quindi questo è il mio è la mia premessa quindi partita dolorosa vista con dolore che mi è rimasto tutto il giorno e e poi nulla dicevi tu invece alessandro no io io no già ti avevo ne abbiamo parlato da s'estate no come vediamo l'inter in campionato e come vediamo l'inter in champions e anche io ti avevo detto che non non vedevo ancora un inter finalista ma così a livello di sensazione e e continuavo a pensarlo anche dopo dopo l'andata con l'atletico madrid quello che non pensavo francamente era di uscire di uscire ieri ma proprio lontanamente non non ma non perché l'atletico madrid fosse considerata una squadretta come come spesso facciamo noi eh prende tanti gol assolutamente la del livello dell'inter anzi sotto certi aspetti secondo me è superiore almeno nei singoli poi come organizzazione un'altra storia e quindi non per quello per quanto avevo visto all'andata e per quanto pensavo di poter vedere a ritorno che poi fondamentalmente non è che ci sono andato proprio lontanissimo è perché l'inter si è mangiata veramente un'altra volta quattro cinque gol cioè quattro cinque gol perché tanti non ricordano il colpo di destra i turam nei supplementari tutto solo alto o quello di di lautaro che esce di mezzo metro e purtroppo la champions è la è la lo sappiamo è la comprensione dei dettagli l'inter nei dettagli è stata meno pragmatica dell'atletico madrid anche nell'allandata l'atletico è uscito salvando la pelle quando poteva prendere tre quattro gol ne ha preso solo uno e infatti già da lì qualcosa uno doveva subodorare secondo me io vedevo le le facce dei giocatori dell'atletico nelle interviste post san siro e erano tutte tanto poi c'era gioca a ritorno dopo il gol di di marco per come stava giocando gli inter ieri anche dopo l'uno a uno no sì poi l'atletico nel secondo tempo spinge però è l'inter che si mangiava mi è sembrata italia francia del duemila francamente all'appariscente un po' la francia però l'italia era lì se mangia due gol del piero e poi prendi la pera che è supplementare diciamo arriva il golden goal però la i supplementari l'ha fatti meglio lì ma in vantaggio con del vecchio sì però ieri la cioè io ho visto i supplementari ha giocato solo l'inter a pallone creato anche anzi non quasi non ha voluto ecco lì ho qualcosa secondo me qualcosa dovremmo dovrebbero spiegarlo così facciamo facciamo volevo far salutare l'ottore venuto a farvi accompagnare un secondo e volevo fargli fare un intervento poi dopo rimaniamo di te lo facciamo entrare dopo anche se stasera è fighissimo così io invece non oggi è reperibile poi lo faccio concludere io non sono d'accordo sul colpo di testa di Turan quella non è un'occasione perché la palla è altissima e non ci arrivava neanche forse Alan ci arrivava non sono d'accordo sul discorso delle occasioni sprecate perché poi dall'altra parte ci sono anche quelle subite l'atletico negli ultimi cinque minuti può fare quattro gol e quello non è non è pensabile che una squadra come l'inter subisca così tanto e sulle occasioni sprecate invece sono sono d'accordo con te ma le occasioni che noi creiamo sono figlie anche di un Simeone che se la gioca con praticamente Savice Vizel dietro e basta perché lui decide e non ha altra scelta e sa esattamente cosa fare mentre noi siamo andati un po' contratti e un po' mi è sembrato di rivedere la sfida in finale a Istanbul cioè loro avevano più avevano paura di noi ma noi avevamo più paura di loro e una cosa voglio dire prima di lasciare la parola al dottore nessuno ok da mentale che ieri lo ha detto davanti a Julio Cesar che a un certo punto voleva tirargli il microfono in testa avrebbe fatto bene nessuno si deve permettere mai di dire castronerie del livello di quelle che io ho sentito proprio da mentana ma che seguivano un filone perché l'ultima volta che ho sentito del bel gioco e di tutte queste cose vere abbiamo perso la scudetto perché mi manca sto pezzo fa io c'è stato un paragone se vuoi ti faccio vedere hanno paragonato questa inter a questa l'inter del triplete è imparagonabile cioè forse forse in alcuni momenti ma io dico neanche in alcuni momenti forse forse a quella del trap ok ma quella di mancini quella di conte non esiste l'inter del triplete era il contrario di questa inter quindi fare il paragone a parte che si chiama l'inter triplete perché ha fatto il triplete perché era capace di fare delle partite decisive perché a siena dove io c'ero perso sei anni di vita è vero che facciamo gol al settantunesimo settantanovesimo ma è anche vero che il siena fa di isfa ma non è che noi subiamo o giulio sesa fa parate ok quella era un inter stratosferica con gente che sollevava i palloni d'oro e con gente che come tu andava in finale faceva gol ogni volta che giocava con la squadra per la quale indossava la maglia non voglio sentire mai più certe castronerie che poi vanno diventano quasi un abuso no della credibilità popolare o quelle quei reati insomma così e la gente poi a bocca e crede di vivere in un altro crede di vivere un inter che non è ok perché Lautaro non è milito perché a non è non è cambiasso ok e eccetera eccetera perché quella è la gente che faceva magari meno ma poi ma poi fabio stiamo paragonando giocatori ancora che stanno ancora giocando magari a inizio carriera o nel più nella carriera con giocatori che che già hanno concluso la carriera quindi era una squadra di capitani quella del triplete no però quello che dico che non è che dovevamo dirlo prima del 22 maggio chi provava a paragonare quell'inter a quella di Herrera diceva le stesse cose che adesso stiamo dicendo stasera perché se tu ancora non raggiungi quei traguardi ovvio adesso se ti paragonano alcuni del triplete alcuni della grande inter dici beh sì però ci sta perché hanno fatto quello che dovevano fare ma infatti il paragone non c'è nel 2010 uno si stupiva ma è normale che sia così sì ma questa storia qua è andata avanti ma ragazzi ieri mentana dice delle cose giocatori giocatori fa una risata isterica e sono lì al tavolo di amazon ragazzi perché della chat ha visto c'è la roba vergognosa cioè sai perché io non ho mai visto un inter così bella anche voi del triplete che c'avevano però c'è cambiasso giocatori giocatori dottore fai concludi scusa che sei tu eh l'inter eh del triplete era una squadra di gente eh proprio di capitani di gente con con una forte carisma ognuno preso singolarmente eh no ma torna torna ieri vi dicevi così poi ti lascio che lascio eh torna ieri perché secondo me potevamo passarlo questo turno abbiamo ho fatto abbiamo eh giocato troppo grazie alle angio membro tredici mesi abbiamo giocato troppo mentalmente questa partita abbiamo giocato prima troppo con la testa prima eh e quindi siamo arrivati lì con non non col nostro eh gioco con il nostro modo di far calcio e quando vedi giocatori come Pavard come eh ma anche eh eh altri interpreti insomma ma si potono citare tanti che non hanno espresso il loro modo di far calcio perché eh avevamo secondo me troppo timore reverenziale per questo atletico troppo 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 timore reverenziale dottore rientra dopo ti aspetto seguici ok che adesso metto sotto torchio Alessandro va bene rientri tu ok ciao no ciao dopo rientra devi fare esci tu doc perché sennò stai ritrovando fuori vai grazie dottore che mi ha fatto compagnia poi lo facciamo entrare allora Alessandro caro Ale intanto grazie a Manuel Ragonetti ciao Manuel grandissimo intervista e cantante marchigiano ciao Manuel allora Alessandro hai fatto già una mezza di esamina? No non sono d'accordo col doc non sono d'accordo io ho in generale mai 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 questo timore reverenziale francamente non non l'ho visto e grazie Eugenio membro da 26 mesi grazie Eugenio è mancata è mancata lucidità soprattutto nella conclusione ci sono stati diversi errori difensivi ai quali quest'inter non ci aveva abituato è anche vero che pure l'Atletico Madrid ha commesso diversi errori difensivi partendo da l'1 a 0 tu dici se vediamo a chi mena più forte magari finisce in pareggio e fondamentalmente stava andando in quella maniera poi l'errore che fa De Frey a parte quella quella palla sul 2 a 1 lì imbucata non deve mai passare poi c'è De Frey che se tu ci fai caso De Pai non fa niente cioè si sposta la palla e tira non è che fa una grande finta di corpo che disorienta lì anche De Frey come Pavarne in occasione del primo gol male quindi ci sono degli errori anche dei singoli però come attitudine a me la squadra praticamente non è disperduta anzi forse ha giocato fin troppo fin troppo come gioca sempre forse era il caso di giocare in maniera un po' più sanguigna ma cioè parliamo di dettagli ragazzi quando tu metti in porta Don Fris Lautaro Turam due volte Barella colpo di cioè sono dettagli nei dettagli l'Atletico Madrid è stato superiore ma non in generale anzi io ho visto più l'Atletico Madrid molto preoccupato o si difendevano 5 4 1 e dovevano rimontare e dovevano rimontare e l'Inter faceva gioco a parte 30 minuti e poi gli ultimi 10 quando ormai aspetta aspetta che io sono vado proviamo a fare una cosa cronologica allora proviamo a farla così intanto spolliciate un like e e se avete voglia sostenete questo canale e questo programma con Alessandro che è il number one allora l'Inter gioca le ultime partite non dico sottotono perché poi le vince tutte ma bisogna anche dire che l'Inter è stratosferica perché quest'anno tutte le partite e alcune in maniera grandiosa con una grandeur di gioco meravigliosa va in Arabia e da spettacolo batte chi deve battere battere dirette concorrenti e è da spellarsi le mani dagli applausi a un certo punto arriva l'Atletico e battiamo anche l'Atletico il risultato ci sta strettissimo non stretto strettissimo si evidenziano dei problemi sui quali poi torneremo magari a fine live sul discorso dell'attacco oggi altri giornalisti poi colleghi hanno parlato già di Inter che lavora sull'attacco poi a un saluto ho visto Pasquale che dice che già si parla ma ne parliamo dopo Fugge parla di Arnautovic possibile cessione poi parla di un Inter che sta già sondando al di là di Taremi qualcuno che 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 possa fare quei quei gol proprio al quelli da buttare dentro insomma e niente quello che ti dico è a un certo punto dopo la prestazione con l'Atletico eccetera dopo la partita di Bologna l'Inter deve andare a giocare al Vanda Sividas come diavolo si chiama parte e continua tu innanzitutto non c'è Arnautovic e non c'è Carlos Augusto ok? Eh più che Arnautovic e Carlos Augusto secondo me ha pesato nel nel poi qualcuno dirà è addirittura Carlos Augusto in un match di dettagli. Sai mettete like cani vermi vermi cani ma cazzo ma quattrocento ma cosa cazzo vi costa schiacciare un like? Non si usa più eh perché Alessandro una volta contavano gli iscritti no? Anche perché voleva fare pubblicità o l'influenza un'altra contava ah io ho questi iscritti i follower poi contavano i like e perché poi dicevo quei follower poi contavano i like oggi contano le visual no? Per me quello che conta è divertirsi all'inter però se si fa una roba dai ciao Antonio grande Antonio sicuramente ha messo like perché lui per esempio ha tre quattrocentomila follower ciao Antonio anche fotomodello dalle Canarie è grandissimo interista quindi l'inter parte non c'è Carlos Augusto e non c'è Arnautovic però ora ti faccio una domanda mi sai dire chi non era in forma perché io non lo so c'era qualcuno che aveva dei problemi? Mkhitaryan è un periodo di non dico fuori forma però non è Mkhitaryan di un mese fa che che strappava cinquanta volte a partire è un Mkhitaryan che strappa quattro volte a partire e lo sto vedendo anche meno meno lucido in alcuni assistenti in alcuni assistenti ma Cervi stava bene Frattesi stava bene gente che aveva avuto Turam stava bene? È chiaro Turam Cervi Frattesi e Cialanolu che erano retici e infortuni magari non stanno al cento per cento ma io credo a un buon ottanta ottantacinque ci stavano quindi non non vedo anche perché anche perché fa poi nei supplementari gioca solo l'Inter cioè era l'Inter che cercava di andare a chiudere l'atletico che si chiudiva poi ha avuto una mezza palla in ripartenza ma la partita cioè io ho visto a un certo punto Pavard, Bissek, Frattesi, Sanchez tutti a destra per cambiare gioco dall'altra parte e alcuni dicono eh perché non ha giocato così all'inizio ma mi sa che c'è sta pure un avversario in campo cioè quando si fa io capisco tutto che l'Inter come dici tu no? Il bel gioco ha dominato eccetera eccetera però l'Atletico Madrid non è che è con tutto rispetto alla Feralti Salò tu vai in casa l'Atletico Madrid e ti aspetti che l'Inter debba in qualche modo maramaldeggiare non è proprio così quindi se l'Inter comunque in qualche modo la portata è supplementare eccetera eccetera perché poi è una partita che va analizzata nel 180 cioè bisogna metterci dentro pure quella dell'andata è un match andato di ritorno che tu di fatto hai finito pari con l'Atletico Madrid che ha Griezmann, Depay eccetera 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 no li conosciamo tutti meritava di più l'Inter tra virgolette come ho detto nel mio video a me non piace questa parola abbinata dal calcio perché non è ginnastica artistica quindi meritare a meno che non ci sia qualche problema arbitrale grosso o qualche roba strana esterna merita chi vince alla fine nel calcio poco ma sicuro io ribadisco non secondo me l'Inter non sarebbe arrivato in finale scotta parecchio perché perché è un turno che tu cioè io sono tornato alla mente no a quelle eliminazioni fa con Liverpool via Real Valencia no quelle in cui tu quelle che fa più male veniva eliminato sì però non è che c'era era una squadra sulla carta fortissima però non avevi quel quel sentiment di dire passo il turno arrivi in finale vinco la coppa cioè non ce l'avevi quella quella quell'attitudine mentale no era un Inter che ancora faceva fatica pure in Italia no a vincere scudetti pre calciopoli e tutto e tutto il resto poi l'anno che vince lo scudetto sul campo come dicono i pagliazzi e l'anno in cui esce col Valencia no con la rissa ecco e anche lì 2 a 2 0 a 0 un rigore non dato una meca però era tutta una cosa rognosa invece ieri l'atletico tra l'andare di torno sale giocata è vero che qualcuno ha menato e Marciani ha lasciato correre è tale perché Inter prende l'aereo abbiamo parlato di chi stava bene o no poi scende in campo adesso scende in campo come l'Inter ha un gol di vantaggio uno stile di gioco che hanno esaltato tutti perché dall'Inghilterra noi abbiamo detto veramente che si trattava di una bella Inter l'Inter va là e non fa questo allora la prima domanda che ti faccio è perché e non fa questo e è una cosa è una scelta o è una conseguenza no secondo me è più una conseguenza perché anche quando l'Inter poi ha palleggiato in diversi pezzi di partita l'Inter ha avuto la palla ha palleggiato l'Atletico Madrid provava andare in pressing e e non avevano le distanze per andare in pressing tant'è vero che poi rinculavano subito sul 5 4 1 quante volte abbiamo visto Morata, Koke andare da soli fare due tre scatti poi sbracciare perché non venivano. Ma ne hanno combinati di cazzate loro eh quindi sono stati molto imprecisi loro ragazzi loro per i primi venticinque minuti la loro fase offensiva io dicevo mio fratello non hanno fase offensiva perché sono preoccupati. La prima azione che fanno Ale poi chiedo aiuto al pubblico la prima azione che fanno a difesa schierata e io gli ho detto adesso vedrai che possono fare gol è il cross con il colpo di testa di Morata che invece si rivela abbastanza facile per la presa di sonda. No quella è la prima azione perché prima sono riusciti a buttare la palla in fallo laterale quindi vuol dire su Morata la marcatura. Gol! Il primo gol di un fratello. LP. Ciao LP. C'è amarezza. Aspetta che non lo trovo perché sono fomentato dall'Inter. Allora intanto grazie a Giovanni Barbone. Inter tristi più interisti. Meno inter tristi più interisti. Sono d'accordo con te infatti noi assolutamente siamo interisti. Ciao Manuel. Ciao Manuel. Grazie. Stanno impazzendo le brigate rosso-bianconiere. Poi ne parliamo anche perché io vedo due un tracollo e delle problematiche. Grazie LP. Primo gol della serata c'è amarezza ma dopo due mesi a questi ritmi ci sta un calo. Era impensabile andare a mille fino a maggio e poi in Champions. Certi errori di paghi caro. Quello che stavamo dicendo. Grazie LP. Esatto. Sì. Stavamo dicendo. Io non vedo proprio un calo come come è stato descritto. Più che altro in Champions paghi degli errori. Poi sul io sul fatto degli inter tristi fa eh su vabbè però siamo primi l'obiettivo grosso del campionato. Questo ragazzi nessuno ce lo toglie. Però non ti nego che che c'è c'è amarezza per questa eliminazione. Diciamo che l'Inter è passata da da dall'Inter delle coppe all'Inter del campionato perché le altre. O una delle due. Però scusa. perdona. Magari il primo anno. Esatto. Questa però è la storia semplice degli ultimi campionati italiani. Dalla Rubentus passando per l'Inter il Milan di Pioli il Napoli. Tutte le squadre che hanno vinto lo scudo sono uscite in maniera non dico disastrosa ma molto molto prematura. Disastrosa. Perché il Napoli l'anno scorso esce con con il Milanello. Disastrosa. Il l'Inter l'Inter vince lo scudetto ma non passa neanche il girone. Il Napoli si fa appunto uccellare e il Milan esce anche lui al gironi. E la Juve quell'anno con Sarri era uscita con Lione, Ajax non mi ricordo. Tanto escono sempre. Con il Lione. Con il Lione. Beh capisci c'è anche il modo. La Juve è uscita con Lione via Real e Ajax prendendo Sberle. E Porto. E Porto No io mi riferivo a quando però ha vinto il campionato. Con Sarri esce con il Lione? Con Sarri esce con Lione sì. Esce con Lione. Durante la pandemia no? Eh sì sì esatto. E pure quegli altri anni in cui non è cercato. Esce con via Real, Ajax e. Sì sì no no hanno fatto però esce male. Cioè non è che esce ai rigori avendo occasioni con l'Atletico Madrid. Esce con avversari veramente inferiori. E prendendo schiaffi. Grazie Max. Ci riconosce lo scudo. Un ragazzo della Juve che ci riconosce lo scudo. No no me non volevo parlare della Juve anche per non fare male. No perché c'è anche il modo in cui esci. No 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 lo so. Io proprio per quello ti dico cioè più amarezza perché sai sono stati degli anni in cui l'Inter usciva dalle coppe e dicevi vabbè oh ragazzi questo è il livello siamo arrivati a tanto bravi amen cioè salutiamo. Qua no. Qua rosichi rosichi perché c'è è oggetti io ho visto comunque un livello diverso tra l'Inter e l'Atletico Madrid. Non mille livelli però mezzo gradino di più l'Inter l'ha dimostrato forse pure uno tra le due partite a livello globale poi nei dettagli è la Champions passa all'Atletico e non ha rubato nulla non ha rubato nulla ho sentito anche polemiche sul gol dell'uno a uno ragazzi c'è il piede di De Frey che tiene in gioco Morata a inizio al durante il primo cross quindi non c'è nulla. Sì ha sorvolato su qualche cartellino ma vabbè pure pure Turammo poteva addirittura essere espulso se proprio vogliamo. Doveva essere doveva essere espulso. Espulso no perché lì c'è c'è una una un'azione una reazione e lui ha cioè il calcio che danno in pancia a Sanchez. No Ale no aspetta Ale Ale. Ale. Quando Barella sì no però quando Barella gli dà il pugnettino a Militao va fuori. Vabbè quello è perché vabbè perché quello a Madrid a Barcellona ste robe. Hai visto poi che è successo la settimana scorsa in Real Lipsia? Vinicius botta al collo. Ah mamma mia mamma mia. Eh c'è Barella che fa così allo stingo di uno che l'ha pinto rosso subito adesso niente. Madrid e Barcellona purtroppo è un duopolio che vabbè lasciamo. Sai perché Rosi sai perché Rosico io. Come Real eh non come Atletico. Sì come Real sai perché Rosico io? Rosico tanto perché da un lato io ieri ho detto uno a uno ma la moneta l'avevo già messo sul fatto che saremmo potuti uscire perché io sempre dalle estrazioni dai sorteggi insomma da quando hanno estratto l'Atletico io ho detto porca di quella puttana ma perché? Anzi ho detto se usciamo usciamo anche Malconci meno male che è stata una partita che a un certo punto poteva diventare maschia ma invece è stata molto corretta meno male. Assolutamente quello è quello capito è rimasta meno male perché uscire e avere anche qualcuno rotto no perché è capitato o finire in rissa come anni fa a Valencia. No ti volevo dire sai perché Rosico tanto perché mi sono arrabbiato a parte per i calci di rigore perché io volevo tirare giù tutti i vetri le finestre perché io certe cose non le posso concepire però quello che mi ha fatto. Lasciamo stare. No 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 non lasciamo stare questo punto. Ne parliamo quello che mi ha fatto incazzare è stato seguire questa Champions con tanta attenzione e valutare due cose. La prima oggettiva è che l'Inter ha sempre puntato il campionato e in Coppa ha fatto il turnover e per me in Zagli e la società hanno fatto bene quindi io non mi sono mai lamentato. L'altra è che quando guardavo le altre partite Ale ma io ti parlo anche di Barcellona Napoli ti parlo anche di di Porto Arsenal ci sono state determinate partite che mi hanno fatto veramente capire che almeno 4 5 altre avversarie che sarebbero rimaste che sono rimaste in corsa ce le potevamo veramente non dico mangiare però è lì che Rosico. Rosico perché a scudetto vinto tu passi con l'Atletico ti capita con tutto rispetto un Borussia Sancio quello che vuoi piuttosto che ma anche l'Arsian mi faceva parla ma anche il PSG e tu te la potevi giocare in una serie. Inter Valencia. Inter Valencia. Sì ma in quella Champions del Valencia c'erano squadre atomiche. Assolutamente sì però pure tu avevi già messo il campionato da ottobre era già. Certo però qui invece non ci sono squadre atomiche per quello che ho rosicato perché ho detto ci siamo cioè l'anno scorso abbiamo avuto un po' di fortuna in alcuni sorteggi ma abbiamo giocato benissimo. Quest'anno non lo so mi girano i coglioni perché io dal BAPO poi lo ascolta. Xavi e Ale Xavi è dimissionario. Tuchel è dimissionario. Guardiola a volte fa delle uscite che non si capisce. Con Seisao anche lui no dicevano boh cioè stiamo parlando di un'Europa nella quale noi potevamo essere non più la mina vagante ma una certezza vagante quindi ho rosicato. Sì. Sì. Aspetta che c'è Frentano che dice che non posso dire che lo scudetto è vinto. Eh ufficialmente no è chiaro che. Dai Ale però. Ale. Magari. Ale ti avevo detto avevo detto che la Juve era un blef e avevo detto che il Milan arrivava prima la Juve. Ho fatto i complimenti a te per un anno. Oggi devi ricambiarli perché io ho detto che il Milan arrivava prima la Juve e arriverà prima la Juve e che la Juve era un blef. l'ho sempre detto sto sbagliando e invece è che la Juve è implosa. La Juve fa schifo. Io ho sempre detto una funa. La Juve fa cagare e ho sempre detto la Juve non è un avversario credibile e il Milan è liderato avanti. Il Milan dei trenti. Aspetta però fa non è avversario credibile se tu vinci tutte le partite. Cioè che l'Inter vince. La Juve ha fatto sei punti. Ha fatto sei punti degli ultimi degli ultimi delle ultime. Poi dai e dai e loro smontano. No la Juve non è la Juve di Nicolussi Caviglia non è un avversario credibile e il Milan gli arriverà davanti. E il giovane Nicolussi Caviglia che poi in realtà già ha quasi 25 anni. È vero? Eh mi sembra che ci abbia 24 25 anni. Aspetta controllo ma. Una donna. Ma anche gatti non è del primo pelo no? Beh gatti di pelo. Ah no 23 vabbè a giugno ne fa 24 vabbè sì a giugno 24. Non è non ne ha 18. Non è proprio un ragazzino. Cos'è che ho un ragazzo? Sì no lui lui sì. No viene preso purello. No lo so viene preso ma è vero però dai oh ma ragazzi. Se tu fai la squadra con i ludopatici e i dopati la colpa è la tua. Cazzi tuoi esatto. Volevo spezzare un attimo. Senza offendere nessuno però sono fatti i fatti sono quelli. Poi. No no ma è vero ma ragazzi. Adalanta e Roma stanno a perdere. Ah quanto la Roma perché io. Sì appena ha segnato il Brighton e prima ha segnato lo Sporting. Invece il Liverpool ha fatto quattro gol in dieci. Minchia. sì. Il Milan il Milan può vincere questa. Il Milan può vincere. Gioca sempre undici contro dieci dopo dieci minuti. Ma tu l'hai vista? All' andata c'era. All' andata c'era. Questa no. Questa lui lui vuole vuole prendere posizione. Non l'ha neanche visto la Calabria. Non l'ha neanche visto. No ma poi proprio che poi Calabria si è rotolato ottocentocinquanta volte appena hanno chiamato il Vata e stava in piedi. Adesso mi ha i grandi articoli indignati per i rotolamenti di Calabria. Aspettiamo. Ma poi scusa un attimo. Quell'altro è vero. Cerca di prendere posizione. Non non tira un pestone. Semplicemente è lì. Non può. È come Vesino Inter Juve due a tre. È uguale. Lui prende. Sì. Esatto. Palla. Quello gli mette in scivolata sotto il piede. Al limite giallo ma non è un colpo violento. Poi è vero che tu lo scolprende i tacchetti. Eh però che vuol dire allora ieri Saul su Sanchez era rosso. Ma infatti. Schiappa una puntina sullo stomaco nemmeno ammonito. Dai su. Con sta cosa del del dei tacchetti. Poi va a molle come dici tu. Lui va per prendere posizione che metti. Ma non ce l'ha mai. Senti. Senti. Camelio. Camelio mi scrivono ma ho visto anch'io la storia. Poi lo dice Filippo qua. Camelio dice che andrà via un big. Gol di Daniele Cirillo mio fratello. Ciao Fabiano sempre al top. Un saluto Cava. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Ciao Dani. A te e al tuo figliolo. Bisogna capire che si intende per big. Big chi? Il big di ieri. Il big più big di ieri era Pavard che era l'unico che ha vinto una Champions e ha fatto una una partita molto insufficiente Pavard. Bisse che gli ha mangiato in testa quando è entrato eh. Io che io lo adoro Pavard però dobbiamo essere onesti. Dobbiamo dire quello che vediamo. Eh ha sbagliato partita. Io vi l'ho visto un po' sufficiente. Sì. Ho visto un po' superficiale come se tanto so 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 superiore e quando tanto so superiore invece è il momento che te bruciano perché. Ma tutta l'Inter è andata là dicendo tanto la sfanghiamo perché se no non giochi così scusa agli ultimi minuti perché ci sono piattiti così secondo te Ale perché eravamo tutti in difesa? Eh beh ma i cambi comunicano quello che devono comunicare Fabio se tu invece metti Buchanan metti eh Bissek per fargli fare il braccetto così sale Pavard e dall'altra parte Acerbi il braccetto cioè difesa cinque nettamente proprio quindi hanno detto serriamo però poi lì sai ti dici chiudi chiudi uno a uno bravo Inzaghi che ha capito come si gioca si difende risultato e non fa lo quello arrogante che va eh e tiene l'uno a uno biecchi il gol Ema doveva essere più coraggioso non se ne esce la verità è che c'è qualcosa che non ho ancora sentito il merito dell'avversario certo dalla panchina mette De Pai e mette eh Correa che non è Correa che non gioca nemmeno al Marsiglia ma è Correa anche Lito eh ragazzi di che parliamo perché De Pai ha cambiato completamente finché c'è stato Morata Atletico Madrid dal gol di Griezmann al palo di De Pai praticamente non ha fatto niente il palo di De Pai quando arriva all'ottantesimo che era sì alla fine qualche cross ma l'Inter aveva nettamente il controllo della partita è entrato De Pai ha fatto mettere paura con quel con quel palo e poi ha fatto il gol io cioè io non non ho visto questo atteggiamento così diverso o ti sei chiuso alla fine allora hanno provato a metterla però non 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 la vedo non 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 sono dettagli sono dettagli che questa volta è curato è curato peggio rispetto al tuo avversario quindi giustamente sei stato eliminato sia all'andata che al ritorno per finire con i rigori perché con tutto il bene fa non non puoi non puoi avere gente che a questi livelli non guarda il portiere quando calcia rigore no allucinante così ho detto anche io non lo guarda e non guarda il portiere se tu ci fai caso Oblak arriva quasi con l'avambraccio a pararli nemmeno solo quello di 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 classe non lo prende proprio inestirata ma non non guardano il portiere guardano per terra ma dai su hanno tirato anche Sanchez ha tirato centrale però ha tirato troppo forte non ha dato nemmeno il tempo al portiere di essere spiazzato dai vabbè malissimo sai che ho letto il post della curva che tra l'altro invita domenica io ci sarò ad accogliere il pullman sotto lo stadio invitiamo i ragazzi a omaggiare i ragazzi con il nostro amore e ricordiamo a tutti che tra qualche mese ci sarà l'epidopo di questa ragione di questa stagione dice il comunicato comunicato è una foto da curva a Madrid dice una cosa usciamo di scena e meritatamente questa coppa però non fa sconti a nessuno dura lezione per i ragazzi facciamo il tesoro poi dice gli ottavi giocano le partite 180 minuti partita è andata dobinata ma specchiamo troppo e poi dice ieri in uno stadio infuocato e scrivono migliore d'Europa la partita è combattuta bla 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 nel senso ieri è la sesta mi è arrivato da tanti ragazzi che erano a Madrid tanti amici il fatto dice qui è una bolgia io sono io sono un po sordo la tv la tengo anche abbastanza bassa perché poi vabbè ma è una bolgia questo stadio no perché si lo spiego perché lo dico perché Barcellona è un cadverificio e anche lo sta il Bernabeu è uno stadio piatto cioè nel senso non sei in Grecia non sei in Serbia non sei in Scozia non serve nemmeno perché tanto l'arbitro entra già condizionato di suo no però è incredibile cioè ieri non è che hai detto qui c'è scritto lo stadio migliore d'Europa no no pure a me chi è stato allo stadio c'è chi mi ha scritto non mi sento più le gambe chi mi ha scritto mi sto cagando sotto quindi evidentemente qualcosa qualcosa c'è c'è stato no parla di stadio infuocato quindi ma anche io no ma io non ho percepito probabilmente bisognerebbe avere una tv spagnola che c'è nel senso che loro cantano no da casa no anche se da casa no anche perché devo dire che il segnale il segnale di prime non è stato proprio perfetto ieri no ieri no ieri no no gol di francesco best flashback ci siamo sentiti ieri una delusione fortissima lo so lo so Pasquale ciao ai miei idoli due arrosticini esatto anche dieci arrosticini grazie a Pasquale allora facciamo un attimo una pausa 42 minuti allora è successa sono successe due cose una alla juve l'anno scorso e una al milan quest'anno quella alla juve non è ancora conclusa continuano a dire che hanno una montagna di soldi da investire parlano di pioggia di soldi parlano di copnei copneiners copmeiners parlano di cento cose l'unica cosa che so è che con il milan si stanno litigando tiagomotta mentre sul fronte poi pratico io della juve non ho ancora capito che cazzo vogliano fare come per capire cosa insomma come se scegliere uno più giovane che investa o se scegliono e dall'altra parte il milan dove da un lato tutta la dirigenza furlani fanno addirittura battute che a volte fanno incazzare anche i magistrati però ostentano sicurezza e si rivede il milan e di redboard abbiamo cooperato con le autorità poi dopo c'è il milan rischio a penalizzazione milan che incroci eliot redboard dalle au alto rosa e in campo la finanza e poi le passo di computer quello che possiamo dire che è vero di piff al milan al milan prima un ragazzo ha detto al milan esatto esatto e questo è pesante quindi vuol dire come andrà a finire secondo te soprattutto sul lato piff perché sai una volta qualcuno diceva chi se ne frega dello squadetto al milan se il piff viene all'inter gli regalo l'ultimo e poi ne vinciamo dieci noi adesso no ma nel senso però no ma non funziona così basti pensare che saputo che il presidente il proprietario del bologna è quello più ricco dell'intera serie a ma non è che adesso se il bologna va in champions il bologna può comprare allen o o de brown o che ne so morata perché c'è sempre il paletto c'è sempre il finanziario eccetera 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 poi è chiaro puoi fare qualcosa di meglio assolutamente sì piff lo stiamo vedendo con newcastle newcastle il primo anno ha azzeccato tutte le mosse a partire dal dal direttore sportivo direttore tecnico diciamo che infatti è stato poi rubato pagando la clausa dal manchester united eh però quest'anno sta faticando è chiaro per per quattro quattro cinque mesi eh di howe non ha avuto mezza squadra però ci sono tanti passaggi cioè non è che vai arriva piff e prendi i migliori non è più come quando abramovic prese il celsi o con gli altri preso il sito però magari magari un antonio conte mh per uno come conte questa cosa sposta ah sì 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 certo però lo stiamo vedendo con l'inter no con l'inter e con la juve la juve in questi anni ha speso milioni su milioni e alla fine del ciclo di allegri sta arrivando col fiatone con una rosa pietosa non pietosa perché fa schifo pietosa per come l'hanno gestita e per come non è cresciuta e e dall'altra parte c'è l'inter che è andata avanti a parametri zero e un diciamo universalmente riconosciuta tra i migliori squadre d'Europa quindi i soldi non bastano per dire per dare un titolo ai soldi non bastano io francamente non sono anche i ricci piangono anche 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 i ricci piangono anche i ricci piangono esatto assolutamente quindi però la cosa che dici tu è vera nel senso che poi è venuta fuori questa carta nel quadro in in cui si parla di un 41 per cento di diciamo di pacchetto nelle mani di pif con l'ingresso appunto di pif al milano poi bisogna vedere quanto come perché ti volevo chiedere se questa cosa della guardia finanza poi andrà a intralciare i piani evidentemente non non io io evito di dare giudizi quando non si sa non si hanno tutte le sei fatto un'idea però di questa cosa vabbè ma questa è sempre stata qualcosa con qualunque persona tu parli dell'ambiente già da berlusconi a yongong li e quando parlava in conferenza stampa non si capiva da dove veniva e sembrava più piantato lì con quel col vestito ancora con la targhetta del negozio bravo manenti no tipo ma è quello che ho sempre detto io io sono rimasto alla chi oggi sai tutte le volte che dicevo la king jorge la genio investimento quando cita oggi finalmente i giornali hanno tirato fuori io sono rimasto lì e guarda caso è lì che stanno guardando non solo yong li ma è lì perché sul dopo io mi sono fermato nel senso sui passaggi dopo io non lo so io so che delle robe prima non hanno mai non mi hanno mai dato l'idea di essere cose boh anche questi personaggi no fabio che adesso c'è liverpool united che ha proprietà proprietà straniere e che non si vedono mai allo stadio perché in italia abbiamo questa questa cosa e ma non è mai allo stadio ma chi sono chi non sono loro però si affidano come ha fatto su ning a un management riconoscibile per lo più italiano con con il quale tu puoi interfacciarti e e c'è diciamo una sorta di percorso comunque fidelizzato germina rarriamo gerry cardinale che sembra uno dei fumetti no quei nomi sto furla cioè tutta gente che fino a magari ignoranza mia e ignoranza mia io fino all'altro ieri non sappia nemmeno chi era sarà ignoranza mia però nel mondo del calcio e tanto è vero che sono arrivati in rotta di collisione con maldini non è un se non se se la mia idea può essere magari condizionata anche a livello epidermico non lo so però se maldini litiga e lo mandano via boh mi sembra molto una cosa di plastica non so come quindi come parlano no anche come parlano in modo di comunicare sembra molto ti volevo ti volevo chiedere perché prima non te l'ho chiesto chi ti ha deluso ieri di come come calciatore singolo cioè no in queste partite ti aspetti di uscire o di passare o di uscire dire non ce n'è uno che mi abbia deluso però abbiamo perso no ieri c'è qualcuno che ti ha deluso e se sì perché pavar l'hai detto non lo so se bloccato alessandro mi sono bloccato io allora sicuramente non so se mi se mi vedi perché adesso si ma sono io che mi blocco bloccato aspetta eh prima io io ti vedo bloccato prima adesso mi vedo bloccato pure io ti sento sento il clic sul mouse ok ora ti vedo vai ho detto di pavar perché da pavar mi aspettavo il qualcosa in più non il addirittura il qualcosa in meno quindi anche una prestazione da sei non mi avrebbe soddisfatto di pavar e addirittura una prestazione da cinque barra quattro e mezzo molto molto deluso e ripeto io sono un grande stimatore di pavar quindi forse per quello sono anche più critico mi è piaciuto barella invece e poi defray pure ha commesso degli errori che noi lo conosciamo li fa spesso in alcune circostanze però ieri mi aspettavo più tigna perché ale è una questione di c'è come mai ieri alcuni giocatori perché l'attretto l'abbiamo abbiamo incontrato anche all'andata è vero che dopo sono entrati dei pai in maniera molto funzionale e con molta garra no e richiede mi ha fatto bene è entrato bene anche però anche correa anche il correa però c'è cose succedenti questi sono giocatori che hanno un'esperienza incredibile cioè anzi a volte vi ricordavo il lucio e samuel tirare fuori il meglio in certe occasioni come c'è che cosa c'è anche saper soffrire che cosa è successo ecco c'è qualcosa che a livello di reparto o è più una cosa di singoli no io credo che senti che linee bonucci in finale con l'inghilterra che cominciano un po' a menare un po' scaraventare pallone un po' cioè seguila quelle quelle quando sei esperto e forte no ieri non mi è andato questa sensazione cioè mi aspettavo due cadi erognosi che fanno espellere drogba ti ricordi quando l'hanno fatto impazzire sì e perché le caratteristiche di di pavare certo quello lo so non sono quelli non mi aspetto non mi aspetto quello mi aspettavo maggior precisione mi aspettavo maggior attenzione mi aspettavo una solidità che invece sanno dare perché io ricordo Efrae contro Lewandowski mettergli la museruola e non era Lewandowski di quest'anno ma era Lewandowski dell'anno scorso che ancora erano Lewandowski top e e Pavard me lo ricordo contro pure Mbappé me lo ricordo contro Messi cioè per di per non parlare delle partite che ha giocato con l'Inter no e e invece ieri l'ho visti sotto tono soprattutto il francese ripeto soprattutto il grazie a ok miglior stadio in Europa sì sì mi sa che è proprio bello però credo si riferissero oltre che lo stadio è molto bello l'impianto anche al fatto della bolgia prego Ale grazie no dicevo invece al di contraltare ti cito poi sì anche Mkhitaryan Mkhitaryan è un periodo che non è da dieci quindi ha fatto la partita che mi aspettavo eh mi è piaciuto tanto Barella che ha limitato le le frivolezze è stato più concreto eh mi è piaciuto Bastoni e di Marco secondo me molto dei giudizi positivi si basano sul gol però da dalla parte sua si sapeva che avrebbe potuto soffrire infatti anche Demfries secondo me poteva essere una una chiave e effettivamente Lino non ha fatto quello che ha fatto all'andata eh perché poi va detta tutta la cosa però lui poteva essere più incisivo chi è che fa quel numero che scavalca poi di Marco col palonetto Iorent ah Iorent è vero intanto gol di Luiz ciao Luiz ciao a ciao 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 Roberto da Imperia ciao a Luiz Alex Stix non mi è piaciuto ieri all sotto tono Alex Stix non mi è piaciuto ieri eh ma chi è Stix però Alex Alex penso sia io Alex virgola Stix non è piaciuto ieri però chi è Stix non è che Alexis Sanchez poi dice all sono tutti ah sì forse Alexis Sanchez tutti sotto tono beh no non credo anzi Sanchez è stato uno di quelli che ha impattato meglio quando è entrato comunque no ha fatto due scarpe però 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 tre attaccanti errori importanti in campo e poi penalty qualcuno si è tirato indietro cioè c'era no qualcuno ha detto secondo te c'era una lista dei rigori e se sì era questa cioè c'era c'era e e però non non c'erano i rigoristi in campo perché Duram era fuori Mkhitaryan era fuori e io l'avrei fatto alciare a Darmian ma forse Darmian non lo so mi spieghi il rigore Sanchez mi tira di esterno un rigore ha tirato centrale Sanchez l'ha alzata centrale Sanchez in campionato tira un rigore di esterno che è il calcio ah sì 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 e ieri che cazzo e Lautaro ma tu mi puoi spiegare aspetta no no aspetta però Lautaro c'è ma mi hanno mandato poco prima di entrare in live infatti stavo controllando quello prima di entrare c'è proprio un uno slow sul replay che quando lui poggia il piede sinistro vicino al dischetto salza proprio la zola sotto il pallone e quindi quando lui calcia di esterno come voleva come aveva fatto Sanchez al rigore che citavi tu lui la tirava la voleva tirare in quel modo però gli salza proprio il pallone quindi lui la prende non di collo ancora più sopra e quindi poi la palla si impenna ecco perché si volta e guarda il terreno poi ti mando ti mando il proprio si vede proprio bene 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 lui poggia il piede sinistro vicino al pallone e e quasi scivola perché proprio si vede la zola che sa che si solleva praticamente bene perché sai è più duro no non è non è fatto della stessa della stessa pasta di della della terra che c'è che c'è intorno lo dice anche Roberto da Genova il pallone che si alza da solo si è alzata la palla per me la partita l'ha persa i zaghi non facendo turn over col Bologna quanti soldi ci rimettiamo con l'uscita anticipata da champions ma qui undici milioni di paio no si dieci piccola sei però vabbè non è quello ripeto a me più che altro mi dava mi dà fastidio proprio il fatto di essere principessa verazzurra dice dopo un quarto rigore l'autaro è andato rassegnato a calciare io io l'ho visto dopo in diretta non l'ho visto l'ho solo sentito perché già era partita la tv allora su questo devi raccontare perché avevo io ho letto tua moglie ha scritto qualcosa in che senso non c'era più la tv è partita no no devo clippa no ma hai rotto la televisione no ma figa pensa a tuo figlio c'era un'altra casa e oggi si ieri no 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 nel senso non so un'altra in altra stanza per giocare per la play o ce ne ho una ah sì sì ah no no per la play sì lui c'ha la sua la cameretta sua che nessuno gliela tocca ok questa è quella di salotte è partito il televisore sì ma non li puoi toccare aspetta no lo so perché io uno lo stavo avvitando dietro ho toccato col dito così ho spinto un attimo si è crepato però io non credo che tu l'abbia fatto puntandolo aspetta un attimo qui attenzione il racconto vogliamo sapere perché il minuto cosa è successo e come è andata proprio se sei sei muoto verso oggetto o se lancio di oggetto su oggetto vai ale tutto tu no è andata che dopo il rigore di di correa non avevo più cioè c'erano diversi oggetti vicino però la bottiglia dell'acqua era già era già dall'altra parte il tavolo pure diciamo era ribaltato insieme alle sedi da un'altra parte la sedia davanti a me era partita verso il mobile alla fine ci avevo mi era rimasto il sai quel 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 rotolo per gli scottex no io davo uno schiaffettone picchia sul tavolo e va a prendere l'angoletto in basso e dico con tanto spazio io tiro uno schiaffetto va lì no e poi e poi ho mollato pure un cartone perché tanto ormai era andata quindi io ho sentito solo piccini che diceva va sul dischetto lataro fuori vaffanculo perché si sentiva l'audio l'audio si sentiva l'audio si vedeva fucsia verde si vedeva quindi televisore nuovo vecchio tanto era da cambiare c'è il nuovo perché quello preso dopo juve inter che si era rotto diciamo in che occasione durante juve inter tra l'uno a zero della juve e l'uno a uno ma quello di darbian chiesa quello di quest'anno eh sì infatti io il gol di lautaro l'ho l'ho ascoltato da casa dei no ma ragazzi va donate donate questo genio e oggi donate veramente donate veramente oggi donate poi ti mando anch'io qualcosa adesso dono anch'io guarda l'autaro non mi sembra un po' stagliamente aspetta donate ma come ale cunfucava ma la cosa brutta è che non è mai volontario sono sempre degli oggetti che finiscono che poi non è che tu diceva al centro della televisore cazzo dici un cinquantacinque pollici lo becchi al centro vabbè sei coglione no va bene l'angoletto è basso proprio proprio per farti lo sfregio capito l'angoletto basso e però ti frega tutto perché questi ormai come li tocchi infatti mi hanno spiegato che quando io ho pure la staffa e ancora non l'avevo attaccata al muro è da novembre perché io l'ho rotto io l'ho rotto montando la staffa eh io montando la staffa e mi hanno spiegato devi stare attento e quindi ho detto appena appena croc si è crepato tutto siccome dovevo tenerlo su ho fatto così l'ho toccato appena si è crepato tutto ecco massimo massimo ci ha preso comunque perché quello rotto era un samsung e oggi ho preso lg quindi ah io ho rotto samsung e ricomprato samsung sei la felicità di media world no troni la prescione la precisione che non hanno avuto i nostri ricolisti quello quello è incredibile quella in che una cosa proprio che tutti siamo tutti cavasini voglio donare voglio voglio donare poi ieri sera stavo massacrato proprio stavo svuotato non si è riuscito a fare il video niente proprio perché stavo distrutto l'ho fatto stamattina alle cinque e mezza il video cioè tu vai a vedere il video mio è riconoscibile sembra uscito da una tomba ma perché ti sei alzato non sei andato letto ci sei svegliato perché poi ho dormito due ore penso due ore e mezza avrò dormito poi mi sono svegliato e ho fatto il video poi l'ho caricato un po più in là ho caricato verso le sette e vabbè sto donando eh perché le cose voglio farti un super stickers anzi voglio donarti poi ti mando la foto che c'ho ancora pure quello quello vecchio ce l'ho scatolato quindi adesso c'ho due perché sai la scatola di quello nuovo ci metti dentro quello vecchio no perché tanto la grandezza è sempre la stessa sì 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 io l'ho tenuto per un mese perché in realtà io l'ho crepato forse tu l'hai rotto io l'ho crepato spingendolo col torace mentre montavo la staffa e e poi invece alla fine non te l'ho giusto non sbaglio no 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 è impossibile perché vuol dire a o crystal non so che quindi come come li tocchi gol gol per il televisore poi ti mando la foto dei due televisori a casa stati perché non c'ho tempo di portarli no ma prossima live mettiamo le foto dei televisori però non c'ho tempo di portarli al alla discarica capito e allora stanno lì tutte e due uno sopra l'altro il mio il mio vecchio sì vabbè luigi ha detto io ho strappato la felpa io le felpe strappo una ogni cinque minuti cioè quella pure ce l'ho ancora sotto all'indifferenza Gabriel ti manda le viti per la nuova tv grazie a poterla grazie a l'anzi no ma quella già sta bene montata anzi poi quando faccio e allora vaffan ci ho preso pure la soundbar allora Gigi ma vattene a far culo vai coglione è qua sempre ogni volta rompere i coglioni coglione zio vai in serie B blocca ed elimina i messaggi ha pareggiato l'Atalanta oh finalmente un gol di l'Atalanta invece io ho messo su quel cesso di twitter ho scritto Daniele De Rossi eliminerà Daniele e Daniele Roberto De Zerbi ma ho una riga sola eh DDR elimina De Zerbi 4 a 0 e anche lì sucare 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 stasera hanno dato un gol a Daz Moon tipo Rummenigge contro i Rangers ma vai in rovesciata clamorosa così in rovesciata clamorosa quello mette la testa alla fine no solo 0 a 0 sai che c'ero io purtroppo c'ero con i Rangers eh pensa un po' io c'ero c'ero con i Rangers c'ero anche quando ho fatto gol Bini con il Real io c'ero in tutte quelle con il Real mi pare tranne una di Coppa Coppe che forse ero malato invece c'ero sia in Coppa UEFA che in Coppa Campioni c'ero in tutte c'ero madonna c'ero col Colonia col gol di Causio c'ero c'ero con le Spagnoli c'ero c'ero col Malmo va bene non fatemi sentire vecchio perché ti volevo dire il periodo è questo il periodo è questo oh pensa che in campionato pensa questa che periodo ma hanno annullato un gol contro la prima in classifica ma questa è una squadra che fa tre allenamenti a settimana grazie Michael anche lui per le grazie Michael Caruso un'altra vita per il televisore mi mando lì per entrare perché sono già le 20.07 vai che fa che fa tre allenamenti a settimana ha tre portieri cioè potrebbe tranquillamente fa la promozione e gioca e gioca con noi vabbè la palla stava rotolando in rete l'arbitro fischia per darci rigore ma no e infatti poi mi ha chiesto scusa però ho detto ho capito e non l'ho manco tirato io l'ho lasciato al a chi si contende la classifica ho fatto gol non ha anche sì però abbiamo perso sette a due ah ok vabbè vabbè è un periodo così ma principessa ma cosa c'entra il Menghi vi lascio il link per entrare domande vostre veloci ad Alessandro altrimenti io io andrei sulla tua lità domenica torno allo stadio vado a vedere Inter Napoli e mi sembra che la curva farà trovare come sempre un ottimo clima giustamente come dicevi tu c'è rammarico c'è amarezza c'è tristezza soprattutto per il livello della Champions che era alla nostra portata l'Europa è bellissima tra l'altro speravo di fare almeno un viaggetto non dico due ma almeno uno che fosse Parigi Barcellona eccetera e invece è invece un cazzo ciao Roberto ciao ragazzi ciao Ale grande ciao 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 Roberto qui se c'è il migliore di tutti sei tu tu sei il migliore chi ci hai portato in anticipo da quando ci conosciamo la Juventus col CDA che si dimette e il tintinio di manette e il Milan che è crollato in questa vuoi dire qualcosa tu sei il numero uno ma non sto scherzando io ti faccio una cosa a te che l'altro zio a casa e i ratti grazie quello che hai spiegato l'altro giorno Fabio che è un po' perché purtroppo i social da parola dai no mi stringi allora il Milan dovresti spiegarlo a tutti dovresti spiegarlo a tutti così anche che gli interi stoni tristi che non sanno mai cosa rispondere io lo so ma dovresti dovresti come un vangelo perché in questo paese qua solo di sentire cazzate la gente ci crede capisci ecco noi viviamo in questo paese qua allora un attimo che sotto c'ho c'ho Ivan c'ho altre persone ti volevo dire Roberto grazie e ho anche un altro pezzo da aggiungere perché poi ho un'altra cosa da dire sempre su così mettiamo la parola fine anche a Chirico che dice le sue cazzate no perché poi sai cosa è che io le cose le so le potrei dire in diretta ma poi non c'è il tempo il Milan cosa è successo il Milan siamo sì lo so i ratti siamo lo so dillo a Fella zio che lui mi ha donato perché che mi stima ma non per il calcio è milanista e quindi mi ha donato grazie cosa vuoi dire a poi sotto c'ho Manuel c'ho Ivan grazie cosa dice ai milanisti dico quello che dico ai loro cugini cioè fanno tanti discorsi la prima squadra di Milano a fare la B tre volte che rischio c'è hai seguito qualcosa sì sì ho seguito ma siamo sempre alle solite cioè siamo sempre alle solite ma gheggi cose irregolari e tanto come ho scritto prima mi verrebbe da dire fanno anche bene perché tanto in sto paese non succede mai nulla a loro e agli altri fosse successo qualcosa a noi sono una barzelletta continua Zang è arrestato quello non c'è quello di là quello di su e poi nell'ottanta li vanno a restare in campo con le manette io penso che se ti vengono a restare con le manette in campo le tue settecembre o metà vanno via poi quando sei andato in serie B vanno via il resto secondo me perché lì è proprio un codice etico che loro e i loro fratelli di Lecce non sanno male cosa voglia dire di Lecce te lo ricordi parliamo di ieri domanda ad Alessandro o affermazione Roby poi ti tengo dentro ma devo fare tra gli altri veloci no Alessandro io sono orgoglioso di essere interista per gente come voi che è interista come intendo io per quanto riguarda ieri io non ho certo lo vedevo come un bonus perché secondo me soprattutto da dieci anni dodici dove in Italia certi giocatori fatti e finiti come avevamo noi del triplete ragazzi abbiamo preso dei giocatori fatti e finiti come background come qualità singola che magari giocavano male ma ti mettevano lì il gol ti faceva la zampata per quelli giocatori che non puoi più avere noi stiamo facendo benissimo in Italia una squadra che competa ad alto livello e cosa vuol dire vinci il campionato e vai in fondo in champion è difficilissimo con le condizioni di oggi è difficilissimo è difficilissimo quindi sei orgoglioso e ieri si poteva uscire l'atletico è forte a me piace Cocchi ha fatto una partita ma anche De Po ieri mi sembrava Verona qualche errore ma poi sono entrati che cos'è che cos'è che cosa puoi recriminare che cosa i gol mangiati i gol sbagliati devi essere noi ragazzi la qualità nel singolo bravi tutti io non posso dire niente bravi tutti ma le qualità di un Griezmann ti faccio un esempio che sta due mesi fuori o quasi gioca una partita e mezzo prima di questa e te la buttano cambia la storia ragazzi noi avevamo il tuo milito che avevano più forte come squadra che come si cioè i singoli diventano forti con la squadra esatto rispetto a beh è andato di fatto ragazzi aspetta Roby Alessandro con che giocatore ieri l'Inter avrebbe vinto la partita con un Depay con un Griezmann con un Morata non penso Depay non penso Griezmann è è uno l'Inter ce l'ha uno del livello di Griezmann come carriera come qualità è Sanchez peccato che c'ha che non è Sanchez di sette otto anni fa è Sanchez di oggi però il discorso di Fabio Roberto è questo nel senso Sanchez del Barcellona dell'Arsenal è quel tipo di giocatore che ti manca Lautaro ci sta arrivando però Lautaro ti dà tanto da altri aspetti no? la lotta la battaglia anche ieri ieri Lautaro ha fatto un assist ha fatto un assist cioè o lo trovi lì o lo trovi di là però l'Inter è una squadra l'Inter è una squadra e non ha quel grazie a Fella Zio sì anche se hai detto una cosa con la quale non sono molto d'accordo però grazie comunque non ho letto eh no dice i magheggi se ci sono stati sono stati al di fuori e sentire qualsiasi cosa si senti da sta ceppa e allora che la fanno a fa? appunto se sei un club calcistico e fai qualcosa al di fuori è perché poi ti serve per dentro ma queste affermazioni sono figlie delle stronzate che si sentono 24 ore su 24 dal solito regime quindi è normale i soldi di coglionazzi dai soldi di pagina ma eh gol di Antonio P Antonio P dopo Fella e dice siete il top Fabio a proposito di risposte forse una risposta la meriterebbe anche Claudio Zulliani falsità pesanti sempre contro l'Inter Alessandro ragazzi no ma ragazzi voi dovete sapere che queste persone quelli che avete citato prima questi altri qui fanno parte grazie Antonio fanno parte di un cabaret quindi non meritano risposta perché già loro recitano e ve lo dico perché conosco gente che che frequenta quegli studi lì quindi anche quello con lo stadio dietro come si chiama lì con la ricrescita quello della Juve dai Roby ma sì ho capito chi dice ora non mi viene il nome perché io non è che mi ricordo come si chiama ragazzi Alessandro ma quello un po' che dice quello che si che parla dell'Inter malissimo che parla di Moratti io ma quello con i capelli inutili Vesicchio 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 bravo Vesicchio ragazzi questa è gente che veramente lo fa sapendo dimentire perché ha bisogno di altro quindi cioè non c'è proprio ignorarli è la massima io francamente a uno che come capello dice parlo per per scaramanzia sti cazzi non ho meriti neanche la considerazione rispondere vuol dire dare considerazione io do considerazione a chi stimo oppure a chi so che comunque parla seriamente non a chi gioca chi gioca giocasse con le carte sono d'accordo su questa cosa di capello che vi ho già ricordato grazie Antonio quindi personaggi che quindi recitano ciao Mauro ciao ciao ragazzi ciao quando ti do le magliette quando ti do le magliette vieni qua per la vittoria del campionato no me le porti te qui a Marotta me le porti ma io vengo volentieri a andare dopo andiamo da Alessandro prima passiamo per ok ok quant'è Marotta forse riesco a venire a Milano prima della fine del campionato per una partita oh oh beh se riesci se riesci vieni l'ultimo io ci sono domani passo passo da Marotta carico a me ma non arrivo tanto faccio quando faccio l'atriatica quindi a perforo venite quant'è Marotta Ancona Marotta Ancona 20 minuti 25 che mia figlia fa l'ultima gara di Serie A ad Ancona e parte domani poi torna qua e volevo fare una sorpresa ma poi stranamente sono stato invitato a Inter Napoli e da una persona molto cara quindi vado se no sarei venuto e ti avrei portato anche le magliette che ho del bagaglia della macchina dai fammi sapere tanto devo cambiare anche qualche misura e Manuel a te la parola e grazie da Antonio P prego Manuel di quello che vuoi domande per Alessandro ma io saluto tutti anche Roberto ciao 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 ecco vai dopo dopo Monza Inter vabbè dell'anno scorso e io ragazzi devo dire che questo deve essere un grande punto di partenza la voglio vedere così mi viene in mente non so perché da questa mattina il 2009 quando Mourinho poi andò in società e disse per vincere la Champions bisogna comprare questo e questo e questo visto anche che quel signore che abbiamo in panchina quando gli è stato detto che quest'anno non poteva probabilmente più sbagliare perché i bonus erano finiti in realtà si è messo giù ha imparato ed è cresciuto tantissimo e ha dimostrato che quando ci si mette giù e ha voglia di imparare insomma lui è uno aperto è uno che cresce naturalmente non è navigato come tanti allenatori e ha dimostrato di poter evolvere questa cosa chissà che non ce lo rivediamo tra un paio d'anni con un sacco di trofei in più perché se questa è la mentalità che poi applicandola ha avuto dei risultati ragazzi capisco la delusione perché siamo tutti incazzati io ieri sera non ho potuto sbattere qual niente contro i televisori perché sto finendo di pagare un sacco di cose Fabio lo sa ma io non è stata volontaria no male io non so come tu sei veramente un coraggio ah involontario voglio vedere al bar io lunedì ero agitato e sto mangiando quello che trovo adesso ho visto degli insetti che camminavano sulla schivania le tarme le ho tenute io lunedì ero agitato e è finita basta esatto come dicono i grilli io ripeto anzi vendo pappagallo ma comunque gli hanno chiesto lo scudetto quest'anno in zaghi ragazzi c'è poco da fare aspetta non è che gli hanno chiesto poi Alessandro lo sa perché sente il direttore il direttore Marotta ha ordinato e preteso no ma è quello che dici tu Roby ha ordinato e preteso che ci fosse un focus totale sul campionato tanto che dopo Bologna-Sassuolo viene fatta subito una riunione non di cattivere ma semplicemente per ricordare quello e questa cosa si rivede nella Champions che diventa tra virgolette un sogno barra grato e vinci e che nonostante questo abbiamo non onorato straonorato se all'andata mettiamo dentro solamente un gol in più questa qualificazione ce la prendiamo e a quel punto lì ai quarti secondo me è ovvio che anche la dirigenza dice beh a questo punto con un campionato vinto e quattro partite proviamo ad andare ancora in finale a Londra no? e per quello che si rogica tra l'altro ti dico questo anche ad Alessandro no? perché a volte arrivano delle cose forse avevo girato anche dei messaggi ad Alessandro no? tu sai che tramite esatto l'Inter tramite uno dei calciatori più rappresentativi cioè quello che pensava l'Inter era se battiamo la Juve vinciamo lo scudo se battiamo ed eliminiamo l'atletico possiamo sognare così e io l'ho girata anche ad Alessandro quindi loro sapevano che l'atletico non era una cosa semplice e nonostante quello all'andata c'è l'amarezza cioè ragazzi all'andata si finisce 4 a 1 non c'è niente da dire all'andata non solo hai fatto la prestazione ma hai fatto io hanno fatto rivedere i gol sbagliati prima lì che c'era il collegamento dello stadio quando c'era Cuglio, Cesare e gli altri io rivedendoli prima di una partita tu dici come ha fatto quella palla non entrare quel cross di Marco quella roba di Arnautovic una cosa no? è Ale poi c'è pure da dire che magari se fai il primo non crei altre 3-4 occasioni perché sai questa cosa della somma è nel bai di 4 quindi finiva 4 a 0 lascia il tempo che trova è come quelli che dicono non dai rigore col Genoa e finisce 1 a 1 perché togli quel gol si ho capito ma cambia la partita però cambia la partita però è chiaro che a livello a livello globale nei 180 minuti più i supplementari io ha ragione non ha tirato non l'hanno tirato in porta allora ragazzi sì ma guardate ragazzi che pure ieri l'Atletico crea quelle occasioni con Depay però tra il gol di Griezmann e il gol di Depay a partita ce l'ha in mano l'Inter crea l'Inter quindi questa cosa timore reverenziale eh francamente non l'ho vista poi non lo so forse è stata l'impressione mia così però io no io una che governava e l'altra che era più intimorita tra le due no ma il rammarico ciao Ivan no ma è la mia sensazione perché ancora non lo rima ma Ivan c'è casino porco due no io invece il rammarico è che loro sbagliano le prime cinque eh transizioni offensive azioni insomma no tutte le sbagliano fino alla colpa di testa di Morata non ne azzeccano una poi noi facciamo gol quindi si vedono dei limiti poi loro sono costretti a fare quel quel 5-4-1 no perché quello è molto capelliano no sembrava quello di Cafu Candelà eccetera scusate un attimo ma è un amico sono uscito senza voler sono uscito senza voler dai parla metti il telefono dritto questo che fai a giocare a basket di merda un gioco di merda al basket finché entra nel culo la palla dai parla ciao a tutti ciao a tutti ciao e poi si è detto sempre senza offesa dai abbiamo Muri e il Gusto Ronaldo no ti ho scritto ti ho scritto prima dimmi di ieri ero ieri è un po' è incazzato te lo giuro come tutti penso che è normale ma dopo ho visto i video quelli che hanno fatto tutti mi sono rilassato tanto sai tanto perché ho pensato se vinciavamo noi questi qua morevano tutti allora avevano dopo tutti sulla coscienza e io non mi trovo bene avere tanti morti sulla coscienza mi spiace ma è andata benissimo così cazzo ma te lo dico veramente che stavano rosicando male ci vinciamo noi ieri era finita meno male hanno risultato incredibile come hanno però dai Alessandro diciamo la verità anche Ivan no ma ha ragione Emanuele ha ragione Emanuele ha ragione Emanuele su questa cosa lo è? del fatto che che se mantengono questa direzione comunque c'è una crescita e occhio alla crescita troppo casino Ivan c'è il numero uno ma c'è casino no va bene va bene si scolto comunque dopo dopo parliamo ma sei in ova d'aria? quanto ti hanno dato? ho cinque anni? no qua è così donde eres? sono in Atleta te lo ho detto ah in ad Atlanta? si ad Atlanta com'è il clima? giochi a basket? quasi sta sempre bene ma in questo stato non fai mai caldo non fa caldo e non fa tanto freddo quindi si sta sempre bene bello mi inviti? vieni comunque te mando una tv va bene? te la mando io che grande va bene che mi serve mi serve in camera mi serve in camera va bene allora una una e 32 va bene va bene quanto ce ne avrai una ventina del box dai grazie Ivan ciao comunque continuo a sentire ci mettiamo l'altra ok ciao Ivan ciao grande Ivan grande Ivan dicevo la ragione la ragione Emanuel che occhio alla crescita ancora che può fare che può fare Inzaghi soprattutto l'aspetto positivo perché alla fine se tu guardi bene c'è sempre un aspetto positivo è che una molla per la prossima stagione ce la dovevamo tenere se no è andata tutto bene dice quest'altro anno ciclo finito che fai quest'altro anno ti smontavi e invece c'è la molla già per il prossimo anno cioè perché magari il prossimo anno abbiamo cinque attaccanti perché a marzo ti posso dire che hanno costruito una rosa con i limiti finanziari a marzo però l'ho capito per il campionato stop non puoi pensare di competere ad alto livello con due over 34 ad esempio davanti assolutamente dai come molla intendevo intendevo un punto dal quale voler ripartire con rabbia quindi competere e avanzare meglio in finale in Champions diceva quello ti facciamo però era più una cosa di inerzia quest'altro anno secondo me vai col sangue agli occhi sangue agli occhi sì sicuramente gli era detto che deve bruciare tanto sono completamente d'accordo con lui mi ricordava un po' Conte quando diceva che le sconfitte ma perché secondo me il bonus di cui parlava Roberto era dai quarti adesso io lo vedo veramente come una cosa che ti brucia dai quarti in poi la vedevo come un bonus adesso mi brucia perché per come ci sei arrivato per quello che hai visto anche in queste due partenze con un avversario forte non è che sei uscito con un avversario scarso sei scarso pure tutto un avversario forte perché è forte solo in Italia possono far passare la tre poi l'hai visto il porto il porto scarzone esce con l'arsenal prima in classifica in Premier League solo solo ai rigori quindi questo grande sorteggio fortunato dell'Inter poi poi voglio insultare l'Inter ma in realtà insultare il Milan previsione quando tutti hanno messo l'arsenal io ho detto no intanto stasera in Portogallo vince il Porto e fa gol Galeno stasera vince il Carabag 2 a 0 con l'uomo in meno l'ha scritto K prima ma è vero quindi con l'uomo in meno il Carabag 2 a 0 mamma mia va beh non sapevo che in Europa League chi gioca contro il Milan gioca in 10 contro 11 cos'è la nuova regola è la nuova regola no però all'andata era giusto all'andata era giusto ho capito ma Ale ma c'hanno un culo sti qua ma lo sai che se rimangono in 11 contro 11 li mandano a casa lo Slavia Praga li manda a casa veramente oggi lo Slavia Praga è giocato finché rimasti in 11 l'aveva quasi presi a pallati non dico a pallati Alessandro tu scambieresti uno scudetto con un Europa League io sì no Fabio non dire queste cose per favore io sì scusa un attimo dai via uno scudetto e vincere l'Europa League quante coppe hai in Bacheca e quanti scudetti hai in Bacheca cioè poi io guarda che lo scudetto c'ho qua il libro scusa Robi Robi sono tre anni no l'Europa League no sono tre anni che dico possiamo pensare solo lo scudetto chi mi segue lo sa io ho sempre detto possiamo pensare lo scudetto tre anni ci stiamo arrivando ma io ti dico che una coppa europea è una coppa europea anche l'Europa League lo dico arriviamo settimediamo in conferenze infatti io ci sono rimasto più male quando mi hanno perso con quel Siviglia di merda io quella sera lì ero tipo Alessandro solo che se mi dicevi coppa UEFA no perché l'Europa Fabio comunque è anche a livello di l'assinale ragazzi gli scudetti sono uno più bello dell'altro perché c'è la festa perché lo scudetto è qualcosa che ti rimane sulla pelle poi la stella ma ragazzi il trionfo in Europa a Londra a non lo so in uno stadio come Berlino a Parigi dove ti danno dove ti danno sì l'Europa League che chiamala extra power fanno l'Europa League la sollevi poi vai a fare la supercoppa che non abbiamo mai vinto poi vai comunque e sollevi questo trofeo europeo e lo metti in bacheca per me è meraviglioso vale più di uno scudetto c'è un piccolo particolare che questo scudetto vale la seconda stella e se noi fossimo nelle condizioni del Milan quando vanno loro con il loro grande stile a festeggiare ti dico l'Europa League ficcatela nel hai capito? no no aspetta su questa cosa dobbiamo essere precisi perché il Milan è un'Europa League da retrocessa dalla Champions cioè il Milan i tre obiettivi stagionali scudetto Coppa Italia e Champions il Milan è una parola di tutti e tre no ce n'era un altro mercato da nove bisogna essere puntuali eh sì te l'ho detto questi qua li foraggiano sempre Berlusconi ha fatto un grande pace all'anima sua ha fatto un grandissimo lavoro ma quello che dicono che dicono le ciabatte a me cioè d'acqua mentre d'acqua me no ma io non sto dicendo lo scudo della stella sono accanto con voi io sto dicendo in Abruzzo quindi manco mi arrivano i segnali se non mi mandassero i link in privato io non vedrei nulla di questa starobaccia no ma non la vedono anche io però sento ragazzi qualunque cosa vincono con le due squadre viene esaltata vedrete anche la Coppa Italia quest'anno sarà una grande Coppa Italia sì sì perché arriva forse la Juventus ma nel frattempo scusate fenomeno giallo e fenomeno Alcaraz che fine vai Ale questo è per te che fine ha fatto però non è che Buchanan ha fatto molti minuti Alessandro ma Buchanan 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 in realtà Buchanan ci vuole i toglioni a farlo giocare Cristo perché ieri non si è capito secondo me c'era qualche qualcuno che aveva capito male il regolamento del quinto e sesto cambio durante i supplementari perché c'era la smagna di farlo entrare prima che finisse il primo tempo supplementare tant'è vero che poi l'Inter un altro po' prende gol perché stavano facendo il campo invece poi non entra più io ho visto sta cosa spero sia solo una mia impressione però mi è sembrato che qualcuno aveva capito bene il regolamento sui cambi e no Jalò viene da da un anno e mezzo fermo quindi è chiaro che è stato un acquisto dopo come ho sempre detto la rinuncia dell'Inter perché l'Inter ha davanti a due Sporting 1 sì da mo ah sì 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 da mo e quindi io francamente vedendo Bissek pure ieri come ha impattato quella partita che poi pure sul giallo si prende palla quante forti Bissek mamma mia e quindi va bene Alcaraz non è male è chiaro che vedendo il prezzo per quello che hanno pagato per il prezzo per quello che dovrebbero pagare per riscatto poi la non so se avete ascoltato la giustificazione di Giuntoli erano le ultime ore di mercato non avevamo tempo di trattare sul prezzo del riscatto riscatto quanto è fissato 50 51 49 più 3 4 per prezzo una roba lo prendono sicuramente ma tu qualche anno è pagato un giocatore che praticamente ha giocato due mezze partite si è rotto e hanno pagato di presto 3-4 milioni sì più o meno per tre partite e mezzo mamma mia ma tu Alessandro 3-4 anni no 2-3 anni fa dicevi che ci vedevi potenzialmente un Gerrard sudamericano no e dopo sto percorso a me piace a me piace ma ce lo rivedi ancora oppure la verità quest'anno l'avevo perso di vista quest'anno l'avevo perso di vista in in championship e nella Juve quella partita che ho visto giocarli contro che era il Frosinone mi sembra che ha giocato titolare e non aveva fatto male anche considerando il contesto perché poi aveva sempre considerato il contesto secondo me è un'ottima mezzala che può crescere anche perché ha tutto ha tutto interdizione bisogno di gioco ultimo passaggio di rimporta inserimento però serve il contesto ma io ho fatto quella domanda per dire bisogna vedere in che mani capita hai capito in che mani capita in che mani è capitato è brutto ma dai ragazzi su ma oggi un youtuber gobbo che stimo ha fatto lui un post dicendo che Sabatini sta esaltando Allegri per attaccare Inzaghi ma ragazzi ma viviamo veramente ma io veramente ma è una cosa allucinante ma l'unico gobbo degno di ascolto è Avstin se proprio sì perché è degno perché è neanche obiettivo è in questa terra è in questa terra qua dove siamo tutti è centrato esatto hai ragione l'amico di l'amico di Carasini Sabatini no ma lui sì 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 ma non è non è non è voluto scendere a polemiche quindi ma ha descritto come collega corretto furbacchione Senti un po' Ale scusami se prendo oggi leggendo così che poi vabbè leggendo in questo paese è una parola grossa l'Inter che fa i sondaggi perché Taremi non basta allora si sono messi per un altro attaccante che poi bisogna sempre fare i conti però magari 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 ma non credo di Zirze arriva dalla Germania perché lì se ne occupano in quanto il Bayern ne lo sapete ma il diritto di prelazione a 40 milioni e hanno loro hanno parlato però in maniera eh Sky Sport Deutschland peraltro in maniera molto molto dozzinale oserei dire di Inter Milan e Juventus Anpassano hanno detto in realtà da quello che so io Zirze piace all'Inter ma è uno dei profili giovani che piacciono all'Inter che piace che piace all'Inter ma da tempo non è che lo conoscevano prima che andasse per esempio in prestito al Parma tanto per dire noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee questi sono club chiaramente non è che lo dico a voi però tanti magari pensano che uno si sveglia ah che bello Zirze gioca al Bologna lo prendiamo questa è gente che ha contatti con questi con l'entourage a volte pure con la famiglia li vedono crescere e poi magari ti arrivano a 25-26 anni ma tu lo conosci da quando c'è una 15 gente come Ausilio Baccino fa questo di mestiere tutto il giorno non è che stanno lì guardano i DVD guardano skills e Zirze piace da un sacco ma di Zirze se ne parla da anni ma come di Taremi Taremi è un profilo che l'Inter segue da anni poi magari arriva a 31 anni all'Inter ma quante volte sentite giocatori anche Turano nell'intervista e a chi a chi mi lo si filma da due anni e mezzo a chi mi bravo cioè i giocatori che poi te lo dicono dicono no ma l'Inter è sempre stato in contatto si sono sempre preoccupati figurate voi che il lavoro che fanno a livello è già lo uguale cioè già lo è è uno che ha fatto quattro mesi cinque mesi nel Milan primavera quindi sono profili che tu hai in un database e poi ti serve anche Pavard Pavard è un altro che all'Inter piace da sempre poi devono esserci tanti incastri e soprattutto deve esserci anche la scelta in quel momento sono scelte che si fanno ecco perché vi dico la Juve non ha qualità sì ma Abrizia Bonati bastardo che mi scrivi cento volte al giorno vabbè la prospettiva adesso vabbè 22 anni Francesco 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 hai delle news purtroppo niente news Fabio niente news se si vuole fare il salto di qualità bisogna se si vuole fare il salto di qualità bisogna promuovere Augusto come vice bastoni bisogna tirare fuori il grano e prendere un altro basta se voglia scusami dottore ti ho interrotto poi ti rido la parola oggi ho fatto solo un video perché ho avuto appunto un po' di problemi a casa se si vuole pensare di diventare o di poter scrivere che questa Inter sarà ricordata come quella del triplete bisogna tirar fuori la fresca perché non manca tanto ma se vuoi andare a competere con chi avrà Mbappé Alan Bellingham e Vinicius devi tirare fuori il grano e devi fare quello step che ti porta in quelle 6 7 8 4 3 squadre che vivono così perché Fabio prima devi fare il pareggio di bilancio e ti levi il fair play finanziario poi tiri fuori il grano finché non fai il pareggio di bilancio possiamo menarcelo quanto vogliamo ma non si può infatti quello che dico è che siccome non si può è inutile fare dei voli pindarici o avere queste dissonanze cognitive perché magari un anno cioè purtroppo l'eccezione è stata la finale dell'anno scorso compensata con un campionato bruttissimo però un bellissimo quest'anno è la regola come diceva Alessandro prima quando esci poi puoi uscire come magari a volte è uscita la Juve poi andendo mazzate non si capisce perché altre volte esci di sfiga come può essere successo alla Roma con Liverpool oppure come è successo con noi con Villareal con Valencia 2 a 2 però esci invece quando insomma diciamo la squadra poi è è forte in due tre elementi in Champions puoi fare la differenza perché poi il Chelsea di Thierry Drogba eccetera quelle squadre lì no Ivano vince se non si può fare mi aspetto almeno il prossimo anno il Bayer che vince la Champions il Bayer che vince la Champions prima perde in casa col Chelsea poi perde quella con noi però poi va di nuovo in finale e vince col Dortmund no cioè ci sono quelle cose in cui vai 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 il City Fabio il City ecco il City sì sì ma per far questo anche se non si possono fare i voli pindarici ad esempio mi aspetto una rosa come dice anche Alessandro da una vita con cinque punte ad esempio che non è tutta la risoluzione di tutto bastardo non è più non è la risoluzione di tutto però ragazzi così non puoi fare pensare di fare due competizioni ad alto livello con due attaccanti sani e due che ci sono non ci sono tra l'altro ti blocco la carta è bloccata io blocco te così vediamo se è vero un attimo che blocco lo stalker Fabrizio ok visto che dice che la carta è bloccata scusate quindi io mi aspetto basta il prossimo anno se vuoi competere in tutte e due se no decidi di vincerti di vincerti di vincere quattro scudi di fila quella è la verità posso dirlo va bene a me arriva benissimo a me arriva benissimo io farei la firma per arrivare a 23 24 scudetti per fare un 5 scudetti di fila questa squadra Alessandro può dominare due o tre anni viste anche le vicissitudini di Napoli Roma Lazio oh non c'è ragazzi anche l'Atalanta lasciamo stare l'Atalanta ma io sto parlando di Roma Lazio adesso gli mandano Tudor che comunque è un moji man cioè spiegami una cosa ma chi è che deve vincere il campionato l'anno prossimo se non l'Inter bisogna vedere le mosse che fanno le altre squadre le allenatori il discorso tecnico che scelgono ma secondo me non lo vince subito secondo me bisogna vedere il tipo di squadra che fanno le ambizioni è chiaro che l'Inter parte con un vantaggio un vantaggio di avere un allenatore se lo confermano che ha che ha istradato un gruppo e quindi non penso che rispetto all'estate scorsa ci saranno delle variazioni come come è successo appunto l'estate scorsa 12 12 cambiamenti in rosa quindi scusate perché dici se lo confermano cioè dovrebbe esserci rinnovo sia di Enzaghi che di Barella che di Lautaro no? ah sì sì no vabbè perché lui lui però non si sa ma dicono dicono che abbia un'offerta o dal leader con l'onfire a 14 milioni che lo stiano corteggiando che risulta che Enzaghi sia corteggiato? sì non so di offerte per francamente so che piace ma voglio dire Simeone sono 13 anni che piace ma resta sempre là quindi poi Enzaghi te l'ho sempre detto io lo vedo come uno fedele uno che che gli piace anche costruire e restare mettere mettere le radici non lo vedo come uno che dice ah ho vinto non posso fare di più no io lo vedo come uno che dice ho vinto voglio rivincere non posso fare di più rivinci la cosa che ormai ho vinto me ne vado a me non mi sa mi sa da no da perdente perché non mi piace questa parola però mi sa da qualcuno che fugge dalle proprie hai vinto rivinci certo come faceva Ferguson no Ferguson dava una spazzolata ne cambiava 4-5 quando ma lui restava e ripartiva e ripartivano meglio di prima se vuoi questi risultati hai bisogno di stabilità cioè Morazzi era un grande però ragazzi cambiava di continuo di continuo di continuo di continuo e si è creato si poteva vincere dieci volte di quello che ha vinto lo sappiamo tutti no ma lo dice lui lo ammette lui in maniera candida ragazzi dai su va bene tutto però lui a livello manageriale era poca cosa poi era un grande perché è interista fino al midollo ci mancherebbe però se vuoi ottenere qualcosa metteva la fresca eh ho capito ma non bastava la fresca perché ti ricordo che con Vieri Ronaldo Baggio Giorca F non hai vinto neanche una coppa del nonno capisci paragona lì agli attaccanti di oggi c'è quella gente lì e non vinci nulla vabbè però è pure vero che pure le altre ce l'avevano pure le altre sì per l'amor di Dio però a livello manageriale mi darete atto che cambiava ma lo dice lui lo ammette lui candidamente proprio cioè anche su Inzaghi io l'avrei cambiato io l'avrei sbagliato quindi molto onesto da quel punto di vista appunto poi sull'Inter di Moratti ecco appunto dice Umberto giustamente cioè c'è anche un'altra storia che sì assolutamente c'è una storia che è esatto perché ragazzi se il 5 maggio Moratti vince lo Scudetto in quegli anni il giorno dopo c'hai tipo c'hai tipo messi c'hai messi con il 98 esatto giochi con messi Ronaldo Vieri anzi magari giochi con messi Ronaldo Vieri Ronaldinho ragazzi io vi auguro una splendida notte e non so Alessandro ti lascio la chiusura con i ragazzi che saluto e io vi saluto anche io che domani mi alza le 3 ragazzi nel cuore della notte vera però Fabio no domani mi alza le 9 devo essere già devo essere già in un posto ho fatto anche una promessa e mi sono alzato presto tre giorni fa schifo la mattina Fabio fa schifo una merda mi è successo io non mi sono mai fatto male al collo in quel modo lì e mi sono fatto male la mattina è piena di insidie scavallate le 11 scavallate le 11 secondo me intanto la gente è nervosissima i più grandi temponamenti tutti che corrono in giro i grandi temponamenti sono la mattina la mattina io ricevo mediamente tutte chiamate non risposte perché io non rispondo a nessuno non me ne frega un cazzo posso non chiamare quando cazzo voglio le chiamate sono tutte perse hanno tutte lo stesso orario io non rispondo a nessuna chiamata e anche se mi chiamo il papa e perché alle 8 di mattina alle 9 c'è un problema enorme poi gli richiami alle 12 pronto ma dimmi mi hai chiamato l'altro no no risolto risolto ti cerchiamo perché la laffa sono cazzate praticamente io e te saremmo dei coinquilini perfetti perché saremmo single non ci incontreremmo mai pur abitando nella stessa casa perché invece e quindi e quindi saremmo la notte e quindi il pomeriggio odio il pomeriggio invece mi dici mattina e notte no beh notte notte io ho quel disturbo lì che si chiama night come si chiama night c'è il disturbo di amare la notte ma il pomeriggio non ti piace? no neanche a me ma perché non ti piace perché ti alzi presto mangi cominci a spadigliare e detesti quel momento lì è bellissimo è bellissimo il pomeriggio io il pomeriggio d'oro fabio il mattino l'oro in bocca ricordatelo eh il mattino l'oro in bocca aspetta Alessandro fai la pennica si riposa senza pennica sono morto anch'io cioè mi avete rotto io quando mi alzo poi zio cane non moro a mezzogiorno grazie che non do ma io poi non moro fino a lua di notte magari la una stampo le fatture pure io io ieri alle due alle cinque e mezza ho fatto il video l'ho caricato alle sette dopodiché alle due tra le due due e tre quarti 45 minuti comunque ti dico ti dico qui c'è gente anche al lago io ho un mio amico non faccio il nome e lui si alza presto al negozio alimentari poi ce n'è un altro che c'è un negozio di telefonia loro regolarmente ce n'è uno di loro che mette la cuffia ci mette il cappello tutto l'anno si alzano presto aprono la bottega poi lo dicevano a casa mangiano e vanno a letto col pigiama e fino alle tre e mezza non puoi svegliarli sì sì ma io dico la madonna sì sì vanno a letto l'ho fatto pure io l'ho fatto pure io ti parlo di gente del nord qua sono tutti c'è gente del nord del lago montagna che alle 12 e mezza mangiano e vanno a letto col pigiama mettono la sveglia alle 4 torno nel negozio anche tu pigiama a letto no se non c'ho la tuta a disposizione metti pigiama poi se fa caldo niente però sì esatto e che dà che jeans è ovvio no 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 anch'io anch'io io una volta sono pigiamato fino alle 5 di pomeriggio con la vestaglia io sono sempre però dico dico che se io dormo da vicino a Riccardo che nel frattempo Cristona con la playstation non dormo quindi mi devo mettere in camera devo chiudere e lei come ti alzi dalla penica rincognonito o felice benissimo benissimo comunque il pomeriggio che la notte è bello il pomeriggio dormi benissimo però fai dei sogni mostruosi no quello sempre io potrei 2 a 2 l'Everkusen quindi passa anche l'Everkusen il mio non la vincere le banne supplementari così Schick ah ah il tuo idolo Fabio cosa? il tuo idolo Schick ha fatto gol? sì zio cane che calciatore quanto a fare grandissimo Patrick campione di Germania ragazzi io vi saluto che come vi dicevo mi alza le 3 e mezza no io saluto tutti ciao Alessandro facciamo finale Alessandro come la chiudiamo ciao a tutti ciao la chat e grazie a tutti ciao la chiudiamo col pensiero positivo non rompete le tv e soprattutto l'Inter si tiene un bel appiglio per ripartire il prossimo anno esatto l'anno prossimo consapevolmente c'è il campionato ci vediamo a Milano tutti chi vive il dottore vieni a festeggiare Manuel vengo 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 Francesco no se me lo dite prenoto un posticino non sto scherzando Fabio te lo volevo dire io se dici quando con la partita Inter Lazio prenoto un posticino normale per fare con noi e ci vediamo tutti vicino anche allo stadio magari ok io poi ti scrivo ti scrivo un e-mail Fabio no ma io lo rendo lo rendo lo rendo proprio ma facciamo ah Fabio come? quando è la data? il 15 maggio il 15 maggio io sono a Milano tutto il mese perché si vota e lavoro per le elezioni quindi ho l'albergo il 19 maggio io sono già a Milano 19 no come c'è 9 in Colazio ah pensavo qui è domenica magari con un anticeo il posticivo non si è senza capire a Milano ah ok allora tutti invitati tutti invitati il bere lo offro io lo dichiaro oggi eh ok il bere lo offro io e e poi vi dico allora dove facciamo già la San Siro con le trattative festeggiamo fino a notte fondo sì ok allora va bene prenoto un posticino e andiamo lì a fare la cena chissà se volete un albergo poco costoso io sono in un posto veramente sovietico e chi si deve fermare ma si ha il telefono dottore sì è un paziente ciao ma non è paziente non è paziente buonanotte a tutti ciao Ale buonanotte e ci vediamo per la festa alla faccia degli altri che festeggeranno sto cazzo ciao ciao Fabio ciao Ale la faccio la roba la faccio falla falla vale ci sei interlazio eh io per quella data mi sto organizzando eh ma vieni con famiglia ok vieni vieni se vieni ti prendo l'albergo dove sono io che c'è il parcheggio interno c'è tutto c'è la stanzetta con le cucine puoi fare quello che vuoi è lì in città studi io lo uso come residence e non lo peleppare nessuno ok yes buonanotte ciao 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 ragazzi buonanotte a tutti ciao 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 come se esce qua cazzo non lo so neanche io termina spegni e non lo so che dopo non si capisce chi sei tu chi sei me ma perché dici non termina stregno